Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale e benvenuti in questa nuovissima live a tema Resident Evil 2 Remake Grazie mille al videogiocatore e grazie mille a Chris che mi ha subito detto che non stava funzionando il microfono quindi stragrazie Comunque stavo dicendo che ci troviamo alla stanza dei server e dobbiamo trovare il modo di sbloccare questa porta non so ancora bene come, perché qui c'è il laboratorio test a basse temperature quindi qui dovremo portare l'erbicida una volta sintetizzato e per sintetizzarlo dobbiamo tornare al laboratorio ragazzi, dobbiamo tornare qui a me regia servirà una foto che ho nella galleria perché l'altra volta abbiamo fatto la foto al codice che c'era sotto quella sorta di trofeo e quel codice ragazzi ci serve, dobbiamo tornare alla sala di controllo della serra quindi armiamoci di tanta pazienza perché dobbiamo uscire da questo posto e sì, dobbiamo scendere giù oddio, devo riattraversare veramente tutto questo schifo ma forse prendendo queste scale risolvo ragazzi quindi fatemi provare un attimo una cosa con calma perché se ci sono gli zombie qua fuori io salto all'aria con calma allora proviamo ad andare subito a destra ok, è solo una pianta oh mammina io non mi ricordo se c'erano mostri qua proviamo a prendere questa scala perché non me lo ricordo dove si sbuga ma dovrei sbucare alla serra sì ragazzi giusto, proprio qui volevo sbucare perché voglio andare alla sala di controllo quindi vado a destra ecco quello si è rialzato ragazzi, che schifo ok, sbrighiamoci sbrighiamoci ok che rumori molesti ragazzi ok, proviamo a inserire quel codice adesso regia, mi servirà una mano? che carino, dice la regia no ragazzi, non c'è niente di carino in quel cosa non lo posso vedere tra l'altro devo dire che l'altra volta mi ha fatto molta paura perché non me l'aspettavo non mi aspettavo uno zombie del genere anche perché non è come gli altri zombie che basta colpirli alla testa credo che abbiano delle pustole in giro per il corpo almeno così ho capito che una volta fatta esplodere effettivamente lo inibiscono ok, vediamo ci vuole questo meno male che ho fatto la foto qua vuole quello piccolo sembra così qua così e qua così proviamo a vedere se funziona ok perfetto ragazzi perfetto abbiamo sbloccato praticamente una parte del laboratorio quindi dobbiamo raggiungere il laboratorio dei medicinali vediamo ragazzi se effettivamente quello che ho fatto basterà Chris dice non so se avete visto Alice in Wonderland in Wonderland immagino questa ambientazione è identica ad una scena della serie allora Chris devo dirti la verità io l'ho visto Alice in Wonderland però talmente tanto tempo fa che non mi ricordo tanto le scene oddio corriamo 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 via ok ok ho sbloccato questo ragazzi ho sbloccato questo quindi vediamo se funziona ok inserito ok dobbiamo cercare di farlo arrivare alla lineetta rossa vediamo se riesco a combinare qualcosa di utile è la quantità massima invece non ci deve arrivare la quantità massima così proviamo che si riempie fino a là e così l'ho diviso in due parti ah esatto perché così qua ne è rimasto quel pezzettino ok forse ci sono ragazzi forse ci sono se non sbaglio adesso forse ci sono aspettate no questo era giusto così proviamo adesso non so se lo fa tutto forse si aspettate aspettate ho capito perché questo pezzettino piccolo deve stare in uno di quelli grandi ragazzi è tipo il gioco delle matriosche tipo più grande più piccola è bello tosto comunque però forse ci sto arrivando attenzione questo piccolo lo spostiamo di qua ok questa se ne va mi arriva l'altra aspettate ok e adesso mi serve quel pezzettino così ci siamo ragazzi ci siamo che ansia comunque tutta tutta sta roba ok ragazzi abbiamo l'erbicida contenito le soluzioni adesso ragazzoli come dice il come dicevano anzi le istruzioni dobbiamo andare immediatamente a raffreddare il composto quindi dobbiamo tornare dove eravamo prima zombie permettendo ragazzi io scappo non scappo stavo scherzando ancora vivo ora non più c'è l'altro mio dio Claire muoviti via scappare fuggire andare via ma non da questo lato dall'altro meno male che non sanno scendere le botole ragazzi ok calma e sangue freddo adesso noi dobbiamo raggiungere qui le basse temperature ecco già vedo gli zombie però andiamoci con calma eh tanto questa è silenziosa la mitraglietta ciao no ok qualcuno di questi si rialza oddio io spero che sia solo buggato ragazzi sembra uno di quei pupazzini in macchina che scuotono la testa dai che si entra qui dai attenzione 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 che paura ragazzi si ma se lei urla che serve la mitragliatrice silenziosa no ragazzi Claire non urla sono io che urlo aiuto eh qual è uno zombie dillo che ti alzi dai fallo adesso dai bentornato dottor Lee ci sono 5 nuovi messaggi ora li leggiamo vabbè tanto si alzerà per farmi spaventare quando meno me l'aspetto non è che non lo so lo vogliamo tutti in macchina uno zombie che scuote la testa si ragazzi giuro voglio uno di quelli sul davanzale della macchina allora leggiamo la posta di Lee del dottor Lee dimmi regia come si chiama il davanzale della macchina cruscotto ma il cruscotto non è solo dalla parte del guidatore è tutto proprio ragazzi sul cruscotto allora posta di Wayne Lee Rick Mendoza che sta combinando sai che ha fatto quello stronzo di Cartwright quel pezzo di merda serve una camomilla beh è lui il capo per ora hai visto il mio trofeo per caso il codice è nascosto sulla base se lo trovi dimmelo ragazzi noi chiaramente l'abbiamo già fatto per fortuna così proprio non ce l'hai fatta a venire e va bene non preoccuparti dell'ispezione della serra te lo do io qualcosa di semplice da fare calcola il budget stimato per l'anno successivo al prossimo e fallo entro stanotte siamo sotto attacco ci sono un sacco di morti l'area est è isolata non possiamo attivare il ponte con i nostri braccialetti ma dove cazzo si è nascosto con lo stronzo di Cartwright bene la pianta 43 è fuori controllo la serra è un inferno no che dici dobbiamo mandarci qualcuno prima che sia troppo tardi Wayne come fermiamo questo macello devi aiutarci rispondi aiuto ti ricordi di Susie la cheerleader che bella ragazza piaceva entrambi ma ovviamente non era interessata a due nerd devo ancora restituirti fumetti e giochi che mi avevi prestato credo che dovrei aspettare ancora bene ragazzi abbiamo letto tutti i messaggi che si scambiava questo tipo e diciamo che tutto stava andando nel disastro più totale e questi neanche se ne sono accorti praticamente o non se ne sono voluti accorgere oh mamma dillo che qua c'è qualche zombie chiuso nella c'è la frigorifica vuoi dire che mi devo sbrigare ah io non sto guardando la mappa è rossa qua quindi sicuramente c'è qualcosa da fare quello zombie si alzerà ok inseriamo qui questo oh mamma ti prego dimmi che ho fatto tutto correttamente ok dai ridammalo che lo vado a mettere al suo posto brava macchinina ok contenitore erbicide ragazzi ce l'abbiamo vediamo che mi danno ragazzuoli io ogni tanto ok è blu ragazzi c'era soltanto questo allora direi di scapparcene via di non calcolare neanche gli zombie io dove sto andando dillo che ho sbagliato strada no giusto di qua devo andare a me non sembra una porta questa ah invece si ti sei alzata tu per caso amica tutto bene hai freddo vuoi venire nella sala frigorifera con me no ok direi di andare via prima che si riscalda il coso non serve più a niente allora usciamo da qua e dobbiamo rifare la stessa identica strada ragazzi così torniamo alla serra oddio io ho paura di questi quello si muove ancora che schifo ogni tanto si muovono in modi ambigui vabbè che ansia che ansia regia come ti sembra tutta questa parte ansiogena no non hai paura tu oddio io si io si io si io si io si che bello scappare che bello fuggire che bello ok rimettiamoli immediatamente dove era ti prego fai che abbia effetto ti scongiuro dai vaporizzazione in corso ti prego distruggili tutti ti prego ecco ragazzi la tessera da dirigente dobbiamo andarla immediatamente a recuperare ragazzi davvero un ottimo diservante ok la regia sbadiglia ragazzi solo io mi sto caccando addosso senti io qua ho messo l'erbicida quindi non ci possono essere ancora i mostri mi rifiuto dai resta morto ecco 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 quello è il dottore poverino ok chip elettronico combiniamola così finalmente abbiamo il braccialetto di livello superiore e ragazzi da questo posto ce ne possiamo andare ce ne possiamo proprio andare ottieni la gente antivirale nell'area ovest quindi ragazzi questa era la gente cioè l'erbicida quindi eravamo nell'area est perché però mi dice che il laboratorio è ancora rosso un attimino allora vado a vedere cos'è che ho dimenticato e poi ce ne andiamo qui ragazzi all'area ovest e vediamo che cosa troveremo io credo che sia l'ultima area che ci fanno esplorare almeno così sembra no si sono alzati flair che schifo che schifo che schifo ma è pieno no ragazzi ho cambiato idea non ci vado nel laboratorio sono tantissimi ragazzi non c'erano tutti questi ma allora ma l'erbicida allora che caspita è servito oddio che schifo oddio mio cosa mi ha dato ah un altro coltello buono buono scappiamo scappare ok meno male che avevo salvato ragazzi così così conveniva ah no non vero non posso ricaricare perché altrimenti non ho il braccialetto da dirigente quindi basta ragazzi andiamo via andiamo via perché qui abbiamo concluso tutto quello che dovevamo fare via via da qui possiamo aprire l'ala ovest scusate stavolta quindi vedremo che cosa ci aspetterà da quel lato e credo che ci sia lì l'antidoto per la bimba perché ripeto sono finiti i posti però è vero anche che adesso posso attivare l'ascensore perché anche questo era con la tessera perché c'è sonegato amministratore io che cos'ho ragazzi è quello viola allora probabilmente ce n'è uno questo è livello 3 ah perché qua ci vuole quello di livello 4 quindi addirittura ce ne sono altri quindi intanto apriamo l'area ovest esatto questo lo posso fare io spero di non avere più a che fare con gli uomini pianta o chiamati anche uomini grutto ok comunque buonasera ragazzi a quelli che si stanno collegando adesso oggi siete pochini comunque a breve ragazzi aspettatevi un sondaggio su instagram per capire se lasciare questo come orario o slittare di una mezz'oretta dato che siamo in estate quindi magari può essere più consono altro orario esatto la gente va a ballare fa baldorie comunque ragazzi stiamo entrando in una nuova area io ho paurissima e rimango però con l'arma silenziata anche se tra un po' mi sa che esatto ho finito quasi le munizioni però va bene così perché tanto ecco aspetta mettiamoci questo che non so che cosa mi aspetta tu ti alzi? no ragazzi una videocassetta e mi ricordo esattamente dove va inserita c'era 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 il posto dove abbiamo salvato la bimba dove abbiamo utilizzato i pedoni degli scacchi in quella stanza oltre a salvare c'era anche un videoregistratore quindi va messa lì a meno che non ne troviamo un'altra oddio c'era un simbolo cos'altro mi dai? uh buono buono non mi lamento ok ragazzi altra stanza dove si salve c'è anche qui il videoregistratore ragazzi meraviglioso e per il resto io andrei avanti così qua ci vuole la batteria questa qua è quindi codice OSS quindi è il primo ok devo indovinare questa frequenza e poi lo posso inserire ecco qua inseriamolo e vediamo che cosa attiva ragazzi semplicemente la luce quindi forse ora funziona quel videoregistratore vediamo sì ragazzi che bello allora avevo ragione semplicemente mancava la corrente ok me felice ragazzi che non devo fare tutta quella strada al contrario me stra felice videocassetta vediamola subito aiuto chi sei? ragazzi è il padre di Sherry l'hanno ucciso non può essere perché poi diventa qualcosa brutto quindi si libera il parassita che cazzo ti è saltato in testa? gli ordini erano di catturarlo vivo ci siamo signore ma c'è stato un problema non può essere esatto signore ricevuto preleviamo il campione quindi ci hanno fatto vedere soltanto questo che l'hanno ucciso per prendere il il campione posta di William Birkin ok sospendere ricerca su G Umbrella Corporation ha deciso di sospendere tutte le ricerche su G al laboratorio sotterraneo Nest i fondi sono stati tagliati e il direttore del laboratorio William Birkin è stato rimosso dal suo incarico grazie della sua mail dottor Birkin le altre sfere hanno espresso interesse per l'arma biologica in grado di evolversi i costi non sono un problema la nostra è tra le compagnie più solide negli Stati Uniti ho avuto la buona notizia G è quasi pronto strano che tu non abbia mai pensato di riportarlo al laboratorio di ricerca del quartiere generale certo portiamo un coso evoluto con un braccio strano in mezzo alla gente tanto che problemi può dare forse posso chiudere un occhio comunque che ne dici di inviarci i dati e non preoccuparti hai fatto un buon lavoro con G ma ce ne occuperemo noi d'ora in poi richiamo lei è sospettato di aver violato il suo contratto con Umbrella Corporation è chiaro che ha rivendicato la proprietà del progetto G e che ha avuto contatti con l'esercito statunitense senza alcuna autorizzazione lei è chiamata a rispondere alla convocazione del comitato di indagine entro 24 ore bene quindi non solo l'ha creato lui ma ha fatto anche casini in questo senso comunque vabbè l'elettricità l'abbiamo attivata qua mi dice però che è ancora rosso il tutto probabilmente per questa stanza che sembra una sala operatoria oddio mio da lì si prosegue però vediamo se c'è qualcosa qua ah la pianta c'è aspettate che cerco di recuperarla ok portiamola indietro ok infatti è diventato blu adesso quindi portiamola un attimo indietro allora proviamo a seguire qui stiamo andando alla stanza del bioreattore oh mamma queste sembrano solo tute allora la stanza è rossa quindi potrebbe esserci qualcosa che non sto ecco ragazzi abbiamo un'altra polvere da sparo quindi un attimino scusate se faccio backtracking ma mi vado a combinare l'altra polvere da sparo che ho già allora recuperiamola che ce l'abbiamo quindi è inutile lasciarla qua eccola no ho preso la chiave vabbè ok vediamo che munizioni escono benissimo altre munizioni acide ragazzi fantastico che non si sa mai andro benvenuto sono italiana quindi parlo italiano fai come ritieni opportuno l'importante è che se vedi che più seguito fallo io giustamente dico la mia no ma io ci tengo appunto ad accontentare quante più persone possibili ovviamente nel limite del possibile di quello che posso fare di quello che posso decidere quindi sicuramente farò il sondaggio quindi Chris mi raccomando partecipa così tengo conto anche di quello che mi hai detto tu comunque ragazzi è arrivato il momento di proseguire io ho paurissimo bene andiamo qui non c'è più niente quindi si prosegue che stanza è sta roba ok mi hanno disinfettata mi stanno disinfettando ok ok sala bioreattori beh posso solo andare dritto ragazzi quindi direi di proseguire poi non posso interagire con niente quindi andiamo avanti perché penso che da qua possa uscire una piovra gigante ragazzi così a caso oddio mi devo preparare il lanciagranate regia tu che dici oddio thank you giulio vargas thank you allora sinistra e destra dove andiamo sinistra o destra sinistra che è chiuso proviamo c'è un computer leggiamo ragazzi altre mail diario di ricerca soggetto 449 dopo aver innestato l'embrione G nel soggetto è stata praticata un'incisione di 50 cm dal torace all'addome e abbiamo monitorato la situazione con l'aiuto della squadra medica il livello di coscienza del soggetto è stato mantenuto tra 15 lucido ccs ccs non so cosa voglia dire ragazzi scusate l'ignoranza tuttavia il livello di coscienza si è deteriorato e non è stato possibile proseguire abbiamo dunque proceduto allo smaltimento del soggetto oh mamma il virus G è stato somministrato al soggetto 501 quindi ragazzi hanno fatto un botto di esperimenti 501 è mutato nella forma G ed è stato inserito in un gruppo di 30 soggetti dopo 2 ore e 36 minuti a tutti i soggetti accetto 1 era stato impiantato un embrione tutti i soggetti sono stati smaltiti durante l'esperimento uno dei soggetti ha perso il controllo e si è tolto la vita ma oggi ragazzi mischino però magari si è reso conto che si stava trasformando in qualcosa di diverso e non voleva non voleva quello magari l'istinto appunto l'ha portato a togliersi la vita assurdo somministrato il virus G al soggetto 628 con lieve resistenza al virus T il virus è stato poi introdotto nel soggetto 639 con cui 628 aveva un forte legame affettivo 628 ha mostrato segni di resistenza ma gli è stato impiantato un embrione dopo 24 minuti la resistenza al virus T non ferma il deterioramento mentale causato dal virus G allora ragazzi io mi ricordo che il virus T formava i Tyrant e il Tyrant dovrebbe essere tipo quel Hulk brutto che abbiamo incontrato alla centrale di polizia quello col virus G credo siano semplicemente tutti quei mostri con l'occhio nel braccio quindi tutti quelli che abbiamo incontrato anche nelle fogne dovrebbero essere quelli se non ho capito male chiaramente ragazzi se ci siete fra voi anzi se siete presenti in questo momento fra voi qualcuno che ragazzi va bene nel primo Resident Evil che sia una cosa di questo Resident Evil boh datemi una mano allora Andro scrive ho usato Google Translate ma voglio farti sapere che l'italiano suona così bene che bello però suona bene l'italiano io ho sempre pensato che l'inglese suona assai bene invece vedi magari agli altri suona bene il nostro la nostra di lingua grazie Andro ok allora proviamo ad andare avanti proviamo ad andare avanti abbiamo delle nuove informazioni qua posso inserire qualcosa? oddio ragazzi un medaglione un medaglione che non ho la videocassetta la potevo posare ragazzi non mi serviva più vabbè ci servirà un medaglione ragazzi oh cacchio ragazzi è partita una scena io adesso ho paura però il ciondolo di sherry ragazzi si chiama reincarnazione questo ciondolo ne vogliamo parlare uh ragazzi abbiamo già l'antivirale per la bimba no che bello abbiamo già l'antivirale quindi dobbiamo tornare indietro io però siccome sono coraggiosa voglio vedere cosa c'è nelle altre stanze piante altra roba proviamo ok si salva qui ragazzi eh ma allora appena usciamo da qua succede il putiferio ragazzi ci stanno facendo salvare oddio oddio mio combiniamo la polvere da sparo ok buono altri proiettili acidi e qui la stanza è blu quindi qui abbiamo concluso posiamo tutto c'è tutto quello che posso posare ok ho un botto di munizioni per il lanciagranate meno male ragazzi perché adesso sicuro succede il finimondo ok depositiamo quello che possiamo depositare ovvero queste due robe e salviamo ok si torna da sherry ragazzi bello che ogni tanto il gioco salva ha un suo sistema di salvataggio automatico e quindi mi fa un attimino anche intuire dov'è che potrei morire ecco che vi ho detto cosa vi ho detto mettiti il lanciagranate per cortesia ti prego date una mossa mettiti quello lanciagranate ragazzi questa è pazza cosa è questo mostro Claire svegliati però ragazzi ma non è morto mai ecco eccolo oddio oddio non ce l'ha fatta ad ucciderlo quando poteva quando ero umano eh quello si risveglia è morta la dottoressa allora allora questo allora te lo meriti forse per come hai abbandonato tua figlia però di morire non te lo meriti dai no che non ce la fai comunque non ce la puoi fare qualcosa si sta evolvendo che schifo ragazzi ma è palchia ma ragazzi è bruttissimo gli lancio tutte le munizioni incendiarie ve lo giuro vai vai dalla bimba tu ma questa è pazza comunque è folgorata si levo con la pistolina però allora aspetta però perché prima vorrei farlo andare giù ninzichina però mi ha preso uguale allora calma e sangue freddo no 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 scappa Claire ti prego ma perché non lo riesco a prendere ragazzi dai stavolta l'ho preso alla schiena alla schiena alla schiena però non si è fatto prendere aspettate riproviamo col fucile mi sta lanciando quel coso mamma 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 ok è morto no troppo bello per essere vero l'altro occhio gli devo prendere l'altro occhio ce l'ha dietro maledizione ma perché gli si sono riaperti no ragazzi non è giusto questo non è giusto però gli si sono riaperti un attimino ragazzi mi curo maledizione maledizione ragazzi ci vuole una mira paurosa posso dirlo morta maledizione maledizione allora che dobbiamo fare ok che io sono una pippa in questi casi perché mi faccio prendere dall'ansia però che dobbiamo fare ciccio magari mi tolgo cominciamo a toglierci da qua ce l'ho là e non deve ricaricare mi sembra giusto madonna ragazzi che pippa ragazzi non è possibile devi colpirli quando sono chiusi subisce i danni almeno io ho capito così e però poi dopo un po' si riaprono ragazzi vabbè va un altro occhio no no non saltare non saltare no no scappa oddio cosa sta prendendo no vabbè che cos'è altre munizioni me le danno certo perché che ne sto consumando come non so che cosa ragazzi non muore manca ucciso cioè manca ammazzato ragazzi dai che qua mi sto bloccando poco poco eh forse ce l'ho fatta dai per favore no sì dai muori dai sì ma ce l'ho fatta sì che schifo dice la regina ragazzi non ci credo ce l'ho fatta no che bello che bello no che emozione anche Chris è contentissimo ragazzi anch'io sono contenti però brava dice la regina grazie dai tutto sommato mi è bastato capire un attimo che dovevo fare ce l'ho fatta che bello mi è piaciuto ok l'ascensore è tornato in funzione quindi ce ne possiamo scappare ragazzi che bello che bello andiamo via da questo posto andiamo via andiamo via recuperiamo tutto quello che possiamo ovviamente che bello c'è anche una cura io come sono messa a vita gialla quindi ancora posso stare però le due erbe vedete le ho consumate quindi pace all'anima mia ci sono altre robe da prendere e me le prendo ragazzi me le merito grazie Mattia per il brava grazie mille ragazzi ok recuperiamo sia questo che i proiettili dopodiché ce ne andiamo guarda quanti proiettili belli ci piacciono altri proiettili me ne hanno dati devo dire mi hanno ricaricata devo dire che sono stati bravi allora ragazzi qua mi dice ancora che è rosso però quindi evidentemente c'è qualche cosa che non ho visto che posso ancora raccogliere mi faccio un giro veloce ecco andiamo cosa sei un'altra bombetta ok ragazzi è blu ce ne possiamo andare scappiamo prendiamoci l'ascensore ovviamente come va il dente grazie mille Matti devo dire che ho preso un occhi prima di fare la live perché avevo paura di stare male però sono riuscita ad anticipare il dentista quindi fortunatamente tra tre giorni capirò il da farsi quindi grazie mille Matti per il pensiero prendiamo l'ascensore ragazzi e torniamo dalla bambina forza e coraggio andiamo via da questo posto via 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 si disinfettatemi che faccio schifo mettiamoci oddio questa la ricarichiamo però mettiamoci oddio non l'ho ricaricata però ok che non si sa mai però voglio stare con questa pistola che devo dire mi è piaciuta ok ragazzi piccolo consiglio rapido secondo voi è il caso di risalvare allora depositiamo qualcosa io la cura me la tengo però questi invece li deposito tanto l'arma elettrica non l'ho utilizzata oddio 5 posti credo sia dignitoso però effettivamente ho troppa roba per difendermi due granate cioè due granate a frammentazione e due stordenti una delle due la posso posare posiamo questa qua ok così sono abbastanza soddisfatta beh sì perché non farlo dice la regia nel frattempo grazie thank you andro thank you la regia dice perché non salvare chi se ne frega e quindi noi sì potremmo salvare dai dov'è che non me lo ricordo più dove l'ho lasciata la macchinetta me la son sognata no ragazzi mi son sognata la macchinetta per salvare qui non c'è c'è la videocassetta vabbè non si può salvare regia me ne vado tu resta seduto coricato quello che vuoi ok torniamo dalla bambina quindi all'area nord però perché quell'ascensore è rimasto inutilizzabile è strana questa cosa eh perché sospetto che la bambina non ce l'abbia fatta eh qui non posso quindi dobbiamo tornare assolutamente all'area nord e vediamo che cosa è successo se la tipa è riuscita a tornare dalla figlia dovrebbe finire fra poco non ti manca tantissimo dice Mattia eh vediamo ragazzi vediamo quello che resta da fare qua cosa avevo dimenticato una registrazione il bersaglio si muove verso l'area ovest cioè ragazzi qui mi avrebbero spoilerato cosa avrei trovato nell'area ovest meno male che non l'ho trovato il questo registratore esatto sì 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 era un piccolo spoiler quindi meno male non averlo trovato prima ok qui posso salvare perché me lo ricordo quindi salviamo che non si sa mai siamo a 40 salvataggi precisi ragazzi direi di fare così di rimanere così lo finisci sicuro stasera grande Matti grazie mille dell'informazione andiamo dalla bimba no non era qui il mio senso dell'orientamento forse era qui sì no ho sbagliato tagliato indietro qua era eccoci oh mamma è morta la dottoressa ma la bambina sta bene dillo che l'embrione se l'è preso la dottoressa sei tornata lo sapevo mamma sta male eh sì che sta male la mamma manetta scena scena come ti senti sto bene tu invece ti senti male no no oddio ragazzi ce l'ha la tipa ma uccidila adesso devo vedere lo schermo oh grazie a dio sherry se la caverà sarà debole per un po' però sì è guarita dal virus hai sentito lei non tanto schifo schifo la tessera sì la tessera ragazzi si va all'ascensore scusami sherry per tutto quanto la tua vita è più importante non possiamo lasciarla qui eh purtroppo sì amore mio sì hai ragione no non la prendere no perché se la porta a preso che succede è iniziata l'autodistruzione si attiva se il virus esce dall'edificio ti prego salva mio figlio beh madonna ragazzi che panico però ti prego sherry ascolta ti voleva bene ma ora dobbiamo andare forza oddio mio ti prego non voglio incontrare più zombie per oggi sono fortunata da ascolta ne parliamo più tardi dobbiamo andare forza ok tutto molto bello combiniamolo perfetto si scappa allora scappando significa che io me ne devo andare di nuovo all'ascensore quindi devo andare per di qua andiamo non compare neanche una sorta di conto alla rovescia quindi dobbiamo andare sulla fiducia ha salvato entriamo dai vediamo vediamo dove ci porta perché nei sotterranei perché per scappare devo andare verso il basso non mi piace questa cosa la bimba più lucida e razionale di fronte alla morte della madre si ragazzi palese cioè la bambina è un altro livello oddio guardate il generatore oddio che figata che figata bene si scappa e basta spero vediamo sono curiosa no non si scappa e basta ho sentito il rumore brutto sto coso è rosso sto corridoio però perché qua c'è ancora qualcosa un coltello ok scappiamo sherry vieni di qua si salva benissimo qua salvo è come ok andiamo bimba vieni sali brava andiamo no 10 minuti dove devo andare dritto alla sala pompa immagino condotto di fuga ragazzi ma io me ne scappo non c'è me ne frego anche degli zombie pieno oddio pianta me la prendo la pianta e come allora dove si scappa al passaggio di qua bimba di qua di qua allora io non penso che la bimba possa morire almeno spero la musica è in crescendo non è un buon segno ma qua ci sono proiettili si buono di qua bimba seguimi in che senso la porta è bloccata basta che non muori i mostri non muori mai ciccio vai con quelle pustole oh questo l'ho preso tutto però ok via c'è ragione c'è ragione che mi devo sbrigare oh mamma e tu rimani giù si uff aiuto sta parte pianta non la combino per il momento ragazzi cassa allora vediamo se posso fare qualcosa di intelligente aspettate allora munizioni ce le ho e va bene e oddio la pianta rossa ragazzi ah si è rossa non è viola oddio aspettate mi sto confondendo la rossa è quella per l'avvelenamento si la blu mi serve quindi depositiamo questa e prendiamo una pianta blu così ho un altro oggetto che cura che non si sa mai ok andiamo sta pistola è una bomba comunque posso salire nel treno o nella stanza entriamo prima nella stanza oh oh ragazzi mi hanno dato un'arma potentissima oh mannagina è qua che devo inserire che cos'è sto coso nooo allora sempre ci vogliono due cilindri vabbè devo uscire da qua ragazzi non ho niente da inserire in questo coso quindi bimba togliti e proviamo ad entrare in questa sorta di treno vediamo qua che c'è ok l'ho trovato connettore elettrico eh si brava bimba via da qui mettiamolo ecco Leon eh si eh eh Leon scusa non ti sento non preoccuparti per me mettiti in salvo Leon Leon cazzo ragazzi ecco perché è fondamentale giocarlo anche nei panni di Leon obiettivamente ragazzi perché io lo voglio sapere lui nel frattempo cosa sta succedendo ragazzi si è tolta una scala perché oddio che cos'è questo rumore che cos'è questo rumore oh mio dio oddio oddio ragazzi se ne sta riandando il maledetto ma perché non ci sono le scale dico io ora da che parte sta oh mio dio è stato giù dall'altro lato sì eh Claire curati per favore per favore per favore ok vattene dall'altro lato oddio oddio si butta qua oddio no questo non me l'aspettavo ragazzi questo non me l'aspettavo oddio muori ragazzi perché la prende lo stesso anche se mi metto dietro il treno vuoi vedere che devo semplicemente sopravvivere dov'è dov'è lì sta salendo di nuovo ragazzi effettivamente non lo so se va ucciso semplicemente devo sopravvivere questo non mi è tanto chiaro finito 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 dove sei sta saltando dove sei eccolo attenzione ragazzi provo a vedere il trofeo sono curiosa scusate quindi andavo ucciso quindi gli ho buttato contro tutta l'arma nuova sconfiggilo con almeno 4 minuti alla detonazione fantastico ragazzi fantastico quindi mi è bastato poi un solo colpo di lanciagranate quindi meraviglioso che schifo via scappare un altro vagone dillo che è Leon non so come però sto ipotizzando che in qualche modo si ricongiungano lo hai finito dice Matthew ora mi godo tutta la parte finale allora se è davvero finito finalmente si fugge si scappa la prima cosa che farai una volta fuori da qui voglio vedere casa tua piccola perché a me serve una doccia sì davvero così tanto già eccolo lo sapevo ragazzi sì ma allora mi ha giocato per forza voglio sapere cosa gli è successo finito ragazzi davvero davvero finito comunque devo dire che mi è piaciuto il triplo rispetto a Resident Evil 1 proprio per la trama ragazzi lasciamo stare il gameplay che come vi dissi quando ho giocato scusate ragazzi accendo un attimo la luce perché mi stava andando a scatti vediamo se ora mi ok dovreste vedermi no di nuovo a scatti evidentemente c'è la luce troppo troppo bassa spero che non si sia visto troppo durante la live ok quindi ragazzi ripeto non mi riferisco in particolar modo al gameplay perché comunque il primo Resident Evil è chiaramente molto molto vecchio e quindi gli si perdona questa cosa mi riferisco proprio alla trama la trama di questo gioco è enormemente più bella rispetto alla trama del primo mi state consigliando chiaramente tutti di giocarmi la parte con Leon perché una volta giocato la parte di Leon si sbloccherà il vero finale del gioco noi chiaramente abbiamo visto soltanto l'happy ending se così si può chiamare di Claire quindi ragazzi io vi posso dire che sicuramente giocherò questo gioco nuovamente però nei panni di Leon cosa che invece purtroppo non mi è venuta con il primo Resident Evil perché l'ho trovato veramente troppo macchinoso questo l'ho trovato molto più lineare molto più interessante molto più d'effetto un bellissimo remake quindi devo essere sincera io credo che non mi peserà nulla giocarlo nei panni di Leon io non so regia se a te può interessare ma io sicuramente lo giocherò lo giocherò e poi magari faremo una live speciale magari o domenica pomeriggio o un giorno che è extra rispetto alle live normali soltanto proprio per farvi vedere cosa succede una volta completata la campagna di Leon e magari appunto vi dico le differenze principali che ci sono state tra la storia di Claire e la storia di Leon io ragazzi per stasera vi saluto spero che quest'altra avventura vi sia piaciuta a me effettivamente tutto sommato è piaciuta dico tutto sommato perché come sapete sono molto restia quei giochi horror ma devo dire che questo finora è il mio gioco horror preferito non ne ho giocati tantissimi però tra quelli che per ora ho giocato questo vince a mani basse mi è piaciuto veramente veramente tanto il videogiocatore dice lo speciale ci sta sempre sì infatti ragazzi adesso noi da lunedì cominceremo finalmente Medieval io sono felicissima di cominciare Medieval con voi perché è un gioco della mia infanzia ma non ho voluto portare la puntata su youtube ho voluto aspettare perché Medieval lo volevo assolutamente recuperare insieme a voi quindi non vedo l'ora che sia lunedì per cominciare Medieval mi è piaciuto tanto 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 quindi grazie mille per chi mi ha spronato comunque a continuare la serie nonostante io fossi restia data la mia enorme paura con i giochi horror però devo dire che questo veramente ha meritato ha meritato mi è piaciuto tanto anche gli enigmi non erano troppo troppo complicati da dover impazzire non ho dovuto neanche una volta guardare le soluzioni assolutamente invece in Resident Evil 1 mi ricordo che un paio di volte sono stata costretta proprio per continuare ad andare avanti nella live e non perderci tre ore a cercare di capire l'enigma qua devo dire che è stato molto molto lineare e questo l'ha reso assolutamente divertente da giocare stra stra bello quindi ragazzi io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me durante questa avventura vi rimando lunedì con la prossima avventura quindi con Medieval io vi ringrazio e vi mando un bacione grazie sempre per la compagnia vi ricordo che se non siete abbonati al mio canale e avete già Amazon Prime avete un abbonamento gratuito al mese ad un canale Twitch quindi ragazzi grazie se sceglierete di supportare il mio lo potete fare semplicemente dal tasto abbonati fate abbonati con Prime e a voi non costa assolutamente niente mentre a me arriva una percentuale quindi grazie a chi mi sostiene grazie mille a tutti un bacione buonanotte vi abbraccio fortissimo grazie a tutti i nostri spettatori